Tutto il collegio è solo su RaiPlay. Scarica l'app. E ora i collegiali possono finalmente affrontare la prima lezione tutti insieme. L'ultimo banco che arriverà. Finalmente tutti insieme con anche chi è stato rimandato per fare casino con l'apetonicchio. Che bello. Ragazzi collegiali, collegiali, accomodatevi. Vorrei tutti quanti ordinati con le giacche. No, va bene. Anche per onorare questa classe media unica. E vorrei ricordare alla signorina Bruscia che io ho dovuto perorare la sua causa con il signor preside. Eh, l'avete di che l'arriva lottata tanto. È brava alla fine. Si alzi, su. Prego signorina Bruscia, oggi sarà la mia assistente, prego, farà lezione insieme a me. Venga alla lavagna. Preferivo stare al posto mio, io sinceramente. Però adesso che mi ha mezzo obbligato, non mezzo, mi ha obbligato, mi sono voluta alzare e sono dovuta fare l'assistente. Oggi parleremo delle regioni polari. Allora, disegni il nostro pianeta. Ora, andiamo a disegnare l'equatore. Orizzontale o verticale. Andiamo a disegnare. In orizzontale. Due misferi. Benissimo. Quindi, dov'è il polo nord? E' facile. Dov'è il nord? Nord e sud. Indichi il nord. Perfetto, allora, indichi il nord. Ci scrivo proprio il nord? E dove lo scriviamo? Lo scriviamo in alto. Questo è il polo nord. Vedi che lei è molto brava, signorina Bruscia, quando si mette. No, non siamo nell'anfiteatro Flavio. Allora, che lascio tutti insieme è stupenda, perché facciamo il doppio del panico. Indossi subito la giacca anche lei, signorina Angius. Allora, dove si trova lì? Ma sì, sicuramente non c'è ancora. Vai, vai. Perfetto. Signorina Angius, indossi la giacca e non tocca la spiritosa, perché non è che ha superato in maniera brillante. Lisa, cosa? Ascoltate il signor preside, cosa ha detto? Claudicante! Mezzo piccante, non male. Non claudichi! La scelta la prima lì, bravo! Nella mia tasse, la sezione A, c'era molto più un clima tranquillo. Preferivo le classi separate. Allora, guardate a posto, la ringrazio. Bravo! La classe unica per me è un pollaio. Ora vogliamo parlare della... Così? Della flora delle regioni polari. Quando parliamo di flora, signor Camorani, quando parliamo di flora, a cosa facciamo riferimento? Flora intestinale. Alla flora intestinale? Ah, grande! Ma lei pensa di essere spiritualista? È l'unica flora che conosco. Diciamo, la classe è divisa, tipo come lo stadio. Ci siamo noi, la parte destra, che siamo alla curva e famo il panico. Io intanto mi segno chi non andrà in gita. Un applauso alla gita che non si fa più! Buon anno! La parte sinistra, tutti zitti, vari olini, insomma. Niente di dubare. Allora, io vedo un gruppo, vedo l'ala destra, eccessivamente vivace e partecipe, quindi penso che... Disegno così, vari olini, mai più. Ma però è una buona. No, però è una buona. L'ala sinistra della classe ha terminato la lezione. No! E può uscire da andare a fare merenza. Ma che storia, sì, non è possibile. L'ala destra ferma. Signorina Brixel, buona merenza. Oh, signor sorveglianti! Vedi, noi ci siamo messi in un posto sbagliato. Ci dovevamo dividere un po' così, un po' così, così non poteva fare nulla. Se la sono cercata come al solito. Non si permetta di rispondere! Noi mangiamo, godiamo e loro studiano. Allora... A ogni minima disattenzione si aggiungono dieci minuti di lezione. Vole, rega, rega! Prego! Allora, l'Antartide è l'opposto dell'Artide, cioè il Polo Sud. Signorina Angius, cosa ha detto il suo compagno? Vediamo, la prova del 9. Se lei vi risponde bene, potete fare merenda. Ah, ok. Prego. L'Antartide è l'opposto dell'Antartide. L'Antartide è senza il suggeritore. L'Antartide? È l'opposto? No, stavo... Dieci minuti in più. No, no, prof, prof! Eh no, eh no, i fatti, i fatti sono fatti! I fatti sono fatti! C'è pirne. Cioè, che cazzo fa mia? No, ma non ho capito, non stavo facendo niente. Non stavo attento, signorina! Non stai dicendo! Non stai attento! Non fare niente durante la lezione! È ancora più grave! Eh, non dovete fare i monellini. Mi! Non sono attenta! Eh, toccate nella basa, Elisa. Questa prima lezione tutti insieme è stata un po' fallimentare, soprattutto per l'ala destra della classe. Parliamo degli iceberg! Che deve affrontare una lezione interminabile. No, però... Ma le parlerò anche delle balenie! Per concludere la giornata... Benvenuti, buongiorno! I collegiali sono di nuovo tutti insieme per la lezione di canto. Abbiamo... ... ... ... ... Grazie a tutti